L'Africa per me è stato il Congo, la Repubblica del Congo. Questo paese ne ha ricevute tante di sconfitte. Ha vissuto molto nella paura, tutt'oggi vive nella paura, nella povertà, nella dimenticanza, nella vera e propria dimenticanza del mondo. Le donne sono considerate delle nullità. Servono solo per partorire, per creare eredi che siano uomini, che siano maschi, che siano i futuri uomini. E non hanno diritti. La popolazione resta la più disperata e la più povera. Dalle cataste di legname nei boschi ormai ridotti a pianure di paglie e cortecce carbonizzate si alza tutt'oggi un mortale sentore di irrappacità imbecille e si apre oltre lo sguardo.